Approvata all'unanimità la proposta di legge e di iniziativa del consigliere Bradascio del gruppo consigliare Pittella Presidente per l'istituzione del servizio di odontoiatria speciale per disabili e pazienti a rischio del servizio di pronto soccorso odontoiatrico. Il testo licenziato durante l'ultima riunione dell'assemblea regionale definisce le categorie di utenti a cui erogare prestazioni odontoiatriche in regime ambulatoriale in narcosi quali persone affette da psicosi e gravi disturbi del comportamento e portatori di handicap grave psicofisico non collaboranti. La legge istituisce inoltre tre servizi di pronto soccorso odontoiatrico per una spesa di circa 75 mila euro annui. Le due aziende sanitarie locali di Potenza e Matera individueranno un presidio ospedaliero per acuti presso il quale attivare il servizio. Un terzo punto di riferimento è previsto nell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. La seconda commissione aveva già esaminato agli inizi di ottobre le problematiche relative alla copertura finanziaria delle norme previste adeguando il testo normativo alle indicazioni del comitato tecnico di verifica finanziaria.